è un personaggio creato da un artista inglese che vive nel Salento che si chiama Normal Moments noi abbiamo rubato con il suo consenso il suo personaggio e ci siamo divertiti anche a fare la richiesta di abbattimento che è più difficile abbattere legalmente che non costruire illegalmente e questo è molto interessante abbiamo abbattuto il terreno già in questa casa poi era anche molto divertente perché io alla fine incontravo varie persone che dicevano anch'io c'è una casa che mi puoi comprare abusiva un altro mi dice una cosa molto divertente di un posto che si è accassinato il capo io gli volevo comprare una casa veramente non finita brutta ma più che brutta, brutto è soggettivo è trascurata, c'erano spesso discariche lì e il Salento è abbastanza fortunato anche rispetto a altre zone dell'Italia del Sud e questo qui, io ho detto senti, io domani se vuoi ti firmo un compromesso per 300 milioni e lui, ah io volevo 700 era una cosa, bleffavo, non li avevo però li avrei trovati, non so mi sarei inventato qualcosa me ne sono andato lui mi ha tirato per il braccio ha detto, senti Whisper io c'è un posto bellissimo io in tre giorni ti costruisco una casa ma tu non ti immagini quanto è brutta te la vendo, te la scarri quando vuoi e basta così trovo, non è possibile quindi abbiamo fatto questa azione qui con vari personaggi del posto una colletta popolare abbiamo fatto un'altra cosa per esempio abbiamo un comune di Melendugno per tre giorni abbiamo da noi si usano buttare frigoriferi scaltar bagni, queste cose da loro e quindi abbiamo raccattato queste cose facendo una cosa divertente perché da noi Coppola Tisa è simpatica, è gentile quindi sempre feste, feste di pizzica abbiamo invitato loro per esempio in tante occasioni ce l'hanno aiutato un sacco di amici, artisti per esempio questa colletta avete fatto un cumulo di queste cose? abbiamo separato la plastica e poi abbiamo fatto una festa abbiamo bevuto, abbiamo cantato è costato molti soldi anche perché era complicato naturalmente le amministrazioni locali non erano sempre contente perché noi davamo fastidio io riapprofittavo parte deve dare fastidio sì, io ogni tanto mi audodefinivo la prostituta di Puglia del Salento quindi chiamavo Repubblica la televisione perché così era importante allora naturalmente la gente dice ah ti vuoi fare pubblicità così volevamo fare le cose belle Coppola Tisa comunque continua Coppola Tisa continua c'è un piccolo libro film e cd che esce ora bene allora questo film è il mio quarto film e ci ho messo tanto tempo perché generalmente io lavoro con sono totalmente libero con gli attori per me non c'è differenza tra attori professionisti o non professionisti devono essere attori bravi o giusti i miei film usano molto sono in dialetto come avete visto i primi due erano radicali quindi con i sottotitoli dall'inizio alla fine in italiano il secondo il terzo miracolo era in parte in dialetto tarantino e questo invece è un film più popolare abbiamo lavorato molto con il mio produttore che è Fabrizio Mosca e il cast è un cast misto professionista e non professionista il senso del film era raccontare una storia d'amore in una terra che ha perso la sua virginità il Salento da terra felice isola felice diciamo la Puglia fino a poco tempo fa era l'unica regione dell'Italia del Sud dove c'era la mafia invece negli anni 80 anche noi abbiamo avuto la nostra piccola mafia la Saga Croa Unita e quindi era dall'80 no c'è stato proprio un anno dal 79 Pino Rogoli ha fatto un proclama in carcere la Puglia pugliesi e quindi si è creata questa mafia a imitazione della mafia di Cosa Nostra di Dandrangheta e quindi noi vogliamo raccontare un po' la perdita della virginità del Salento però è una storia d'amore la storia d'amore fra due ragazzini che erano amici da infanzia lei che stende sui pomodori esattamente lui figlio della borghesia di galantuomini cosiddetti galantuomini di borghesia leccese e lei figlia di contadini lui diventa un magistrato antimafia e lei diventa la moglie di un bossetto e luogotenente di un boss importante comunque passerà in televisione nel 2009 2010 passerà al cinema nel 2009 e la musica? la musica questa volta ho tradito il gruppo Zoe ho fatto sempre con loro la musica questa volta ho usato uno straordinario musicista di Gabriele Rampino siccome devo anche parlare anche del lavoro della pizzica che abbiamo fatto è che è un lavoro un po' simile a quello di Coppulatiza perché il problema in quegli anni era che noi ci eravamo dimenticati che cos'erano le nostre tradizioni la nostra identità ma non volevamo fare un discorso di archeologia culturale volevamo proprio partire da quello che eravamo e quindi la musica io raccontavo le mie storie utilizzando il mio territorio la mia lingua la mia forma mi è piaciuto molto quello che ha detto prima il mio amico Martini perché noi mi rendevo conto che in Puglia al Cutroviano un paese del Salento sapevano più quello che succedeva nel Texas che non quello che succedeva a Brindisi a Lecce e quello che succedeva a noi può essere altrettanto emozionante solo che noi ci siamo vergognati per tanto tempo specialmente tutto quello che era cultura popolare noi abbiamo rinnegato la nostra identità che è anche popolare quindi la musica è stata un mezzo e in quegli anni nel 92 93 94 noi abbiamo fatto una specie con Zoe proprio con Lamberto Donatello Cinzia Pino Zimba Buonanima che non c'è più Raffaella Aprile e tanti altri ma specialmente diciamo Donatello Cinzia e Donatello Donatello Cinzia e Lamberto Provo scusate abbiamo fatto tante feste 200 feste in Pizzica facendo anche delle cose abbastanza vergognose cioè scrivendo ti ricordi Pizzica è comunione ballate la Pizzica farete meglio all'amore usando all'amore perché si era più delicato Apollo siamo qui dietro proprio Apollo è morto Dioniso il Risorto e il Cristiano di Casarano diceva ma c'è il studio Apollo c'è il studio è un bravo Cristiano è un bravo Cristiano e facciamo tutte queste cose io non avevo il physique du roll anche per essere questo Mujahideen della Pizzica e quindi c'avevo specialmente loro erano molto più vedete che non sono molto bravo potremmo parlare ma Zimba Lamberto avete fatto risorgere avete fatto non solo ritrovato rispolverato le radici andate a trovare insomma le espressioni di un tempo ma se riuscite adesso a farle diventare e adesso naturalmente non vi interessa più vi rivolgerete altrove un fenomeno fantastico perché arrivano migliaia e migliaia di giovani nel Salento quando c'è la festa della Pizzica e questo lo dobbiamo a Winsport e a Officina Zoè signori quindi insomma vuol dire che che conta lottare di trovare l'industria io chiamo Letizia e Cora che sono le nipoti di Pino Veneziano che consegneranno il premio a Edoardo è un rappresentante dell'Officina che prego di salire qui Cora consegna a Lamberto Probo per l'Officina Zorano apri apri e fai vedere è una litografia di Franco Accursio Gullino consegna pure Letizia a Edoardo il premio ah ogni anno noi non abbiamo un premio che sia una targa o che ne so un premio in denaro figuriamoci è un'opera d'arte che un artista ci dona e noi giriamo altri artisti no io volevo ringraziare specialmente Ute e il mio amico tutta l'associazione e tutta l'associazione no perché no è importante perché c'è una frase per me molto importante di Borges e adesso non dico tutta la poesia però queste persone che forse non vuoi che a differenza di noi che siamo artisti che siamo sempre accettate l'attenzione a volte non ci accorgiamo di queste persone salveranno il mondo e quindi ringrazio moltissimo nel senso che siamo medicine del mondo fate cose importanti basta va bene musica grazie a tutti grazie a tutti